a tutti bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo avanti col Vangelo secondo Giovanni. Postilla sarà un capitolo piuttosto lungo, sono diversi versetti e parliamo del capitolo 4, versetto 4, cioè colloquio con la Samaritana. Prima di tutto spieghiamo chi sono i Samaritani. Perché Gesù non avrebbe dovuto parlare con la Samaritana? Perché i Samaritani erano considerati allora dei miscredenti, degli infedeli, gli apostati, cioè quelli che si sono separati dalla vera fede. In realtà, stando storicamente a quanto ci è riportato, i Samaritani erano i disentori della prima vera religione abramitica, quindi erano i veri fedeli e basarono le loro credenze sulla Torah e veneravano appunto il Dio biblico, solo non poi con tutte le aggiunte che fecero gli israeliti successivamente. Ma quando tornarono dalla Babilonia furono considerati appunto degli scismatici e quindi furono relegati. Nessun vero israelita parlava con i Samaritani, che in realtà erano circa un migliaio all'epoca di Gesù, non erano moltissimi e erano, si pensa, si è risaliti storicamente, grossomodo, discendenti delle tribù di Israele di Efraim e Manasse, due figli di Giuseppe e dal sacerdote Leviti. Quindi queste erano le discendenze dei Samaritani, i quali hanno rapporti con l'attica Samaria dai tempi dell'entrata in Canaan, mentre altri suppongono che si parta dall'esilio babilonese fino al regno samaritano di Baba Rabbà. Il termine samaritano comunque non deriva dal fatto che i samaritani abitano in Samaria, ma dall'ebraico shah merim, cioè custodi della legge. Ecco abbiamo chiarito anche questo particolare. Quindi sapete come erano molto rigidi all'epoca sul rispetto di determinate regole o sul fatto, per esempio, un'altra regola non si poteva entrare in casa o in contatto fisico con un pagano, ma si tollerava per motivi di commercio e comunque perché i romani avevano occupato Israele e quindi bisognava comunque convivere con loro e con tutti i pagani che arrivavano dal resto delle terre dell'impero e quindi si potevano avere rapporti commerciali ma non rapporti né carnali né fisici e nemmeno nelle loro abitazioni perché si sarebbe diventati impuri. Quindi poi c'era tutta una procedura per purificarsi ma si riceviva il biasimo dell'intera comunità ebraica. Allora colloquio con la samaritana, cominciamo a leggere sempre dalla nostra Bibbia, ricordo tutti che non è una lettura né biblica né teologica ma semplicemente un'interpretazione spirituale di quanto ci viene detto. Molto importante in questo incontro con la samaritana perché ancora una volta Gesù ci dimostra con i fatti che non bisogna avere tema delle idee degli altri e avvicinarsi a tutti con amore portando loro la parola non quello che succede un po' anche adesso che quello che succedeva allora che soprattutto dei più ortodossi e religiosi cercano di tagliare diciamo così un po' fuori dal giro quelle persone che loro considerano non credenti non così ortodossi non così fedeli o che non si attengono a determinate regole. Così era anche all'epoca allora levo gli occhiali e vi leggo Egli doveva passare per la Samaria. Ora arriva una città della Samaria chiamata Sicar vicino al podere che Giacobbe aveva dato al figlio suo Giuseppe c'era là il pozzo di Giacobbe. Gesù affaticato come era dal viaggio si era seduto sul pozzo era circa l'ora sesta. Viene una donna della Samaria ad attingere acqua le dice Gesù dammi da bere. I discepoli infatti se ne erano andati in città a fare compere a comprare da mangiare gli dice la donna samaritana come mai tu che sei giudeo chiedi da bene a me che sono una donna samaritana i giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Lì schifavano proprio erano considerati come degli appestati dei lebrosi pensate quanto era veramente così così dirimente la questione così dividente oltre che dirimente. Lì rispose Gesù se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere tu avresti chiesto ad egli ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Lì dice la donna signore non hai neppure un secchio e il pozzo è profondo da dove prendi dunque l'acqua viva forse tu sei più grande del nostro padre Giacobbe che ci diede il pozzo e ne beve lui i suoi figli e il suo bestiame? Le rispose Gesù colui che beve di quest'acqua avrà ancora sete colui invece che beve dell'acqua che gli darò io non avrà mai più sete ma l'acqua che gli darò diverrà in lui una sorgente di acqua che zampilla verso la vita eterna. Signore gli dice la donna dammi quest'acqua affinché io non abbia più sete e non debba più venire a tingere la signora era molto pratica quindi dice io devo fare tanta strada venire a tingere l'acqua portarla a casa per bere per lavare per fare da mangiare invece così ce l'ho disponibile se sgorgerà l'acqua da me non avrò bisogno di fare queste cose. Le dice Gesù va chiama tuo marito e ritorna qui. Non ho marito gli rispose la donna le dice Gesù hai detto bene non ho marito perché ne hai avuti cinque mariti e ora quello che hai non è tuo marito quanto questo hai detto il vero. Signore dice la donna vedo che tu sei un profeta i nostri padri adorarono su questo monte e voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove si deve adorare. Le dice Gesù credimi donna che viene un'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il padre voi adorate ciò che non conoscete noi adoriamo ciò che conosciamo perché la salvezza viene da ai giudei ma viene un'ora ed è adesso in cui i veri adoratori adoreranno il padre in spirito e verità infatti il padre cerca tali persone che l'adorino. Dio è spirito e che loro che lo adorano in spirito e verità devono adorarlo. Dio ripeto Dio è spirito e coloro che lo adorano in spirito e verità devono adorarlo. Gli dice la donna so che deve venire un messia che significa Cristo quando quegli verrà ci annuncerà ogni cosa le dice Gesù lo sono io che ti parlo. Sentite anche come il parlare sia efficace breve indicativo senza tanti preamboli. A questo punto arrivano i suoi discepoli e rimasero meravigliati che parlasse con una donna nessuno però disse che vuoi tu da lei oppure perché parli con lei la donna intanto abbandonò la sua giara andò in città e disse la gente venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto ciò che ho fatto non sarà forse lui il Cristo uscirono dalla città e andarono verso di lui. Nel frattempo i discepoli lo pregavano dicendo Rabbi mangia ma gli disse loro io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. I discepoli dicevano fra loro che qualcuno gli abbia dato da mangiare qualcuno gli ha portato una pagnottina qualcosa cioè veramente questi discepoli erano abbastanza zucconi. Ecco quando io vi dico sempre che ci sono sempre due discorsi nel parlare di Gesù uno comune e uno più elevato spiritualmente gnostico io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. E loro dicono che qualcuno gli abbia portato qualcosa da mangiare. Dice loro Gesù mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e portare a compimento la sua opera. Non dite voi ancora quattro mesi e viene la mietitura? Ecco vi dico alzate i vostri occhi e osservate i campi sono bianchi per la mietitura. Già il mietitore riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna affinché il seminatore goda insieme al mietitore. In questo caso infatti è vero il proverbio diverso è chi semina da chi miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui voi non avete faticato altri anni ho faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che aveva testato. Mi ha detto tutto ciò che ho fatto quando i samaritani arrivarono a lui lo pregarono di rimanere presso di loro e vi rimase per ben due giorni. Furono ancora più numerosi colori che credettero per la sua parola. Alla donna dicevano non crediamo più per il tuo discorso cioè per quanto tu ci hai testimoniato e ci hai detto. Noi stessi infatti abbiamo dito e sappiamo che veramente lui il salvatore del mondo. quindi vedete che anche questa cosa è molto esplicativa dal punto di vista spirituale. Allora Gesù spiega alla samaritana che è quello che viene detto che porta alla verità ma gli spiega che lui ha l'acqua che la renderà non più assetata ma questa acqua è l'acqua dello spirito e lei avrà talmente tanta acqua c'è tanto spirito che non avrà più bisogno di ricercarla. Questo è il significato dell'acqua che zampilla. Gli zampillerà questo spirito questa spiritualità e lei non avrà più sete non avrà più fame di conoscenza perché l'avrà dentro di sé attraverso lo spirito di Dio. Poi ci spiega che Dio è spirito e in spirito l'adoreranno. Ecco che anche qua ci dà un'ulteriore indicazione della nostra realtà del nostro essere spirituali sebbene in questo momento all'interno della carne fisica del corpo umano. Mi sembra che oltre a dare un insegnamento terreno sul fatto comunque di avvicinare chiunque non temere perché uno di un'idea diversa o di una religione diversa o la pensa in maniera diversa e questo ovviamente è sempre un insegnamento di buon senso e di amore terreno che Gesù ci dà ci dà proprio questa indicazione spirituale e quando dice gli apostoli io ho altro cibo e loro pensano che qualcuno gli abbia dato un panino di nascosto in realtà gli parla del cibo del suo mandato dato da Dio ma anche del suo cibo spirituale e lui dà sempre costantemente queste piccole indicazioni anche i suoi apostoli i quali però non capiscono e ricordano molto noi stessi noi siamo nella stessa condizione degli apostoli di allora delle genti di allora non riusciamo a vedere oltre il nostro naso ci fermiamo all'apparenza fisica non ancora consci che l'uomo non è solo fisico ma è anche spirito che quando parliamo di un regno dei cieli parliamo di un regno spirituale bene anche per oggi la lettura del Vangelo secondo Giovanni in questo caso è al termine scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questa interpretazione spirituale mettete il like condividete il video così che tutti possano accedere anche a questi video ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti da Ermanno ciao ciao